buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale in questo breve video andiamo un attimo a vedere che cos'è il progetto astar che parteciperà alle aste paraceni di polkadot per aggiudicarsi uno slot andiamo a vedere che cos'è questo progetto dove si potrà partecipare all'asta paracene e quale sono ad esempio le ricompense che andremo a ricevere e la tokenomics di questo progetto ovviamente dopo la sigla andiamo a vedere che cos'è il progetto astar raggiungibile all'indirizzo astar punto network che parteciperà alle aste paraceni polkadot per aggiudicarsi uno slot come vediamo già dal titolo sarà un hub per applicazioni decentralizzate multi chain la sta paracene partirà l'undici novembre cercherà di vincere lo slot e avere poi un contratto per 96 settimane da come se vince dalla presentazione di astar si potrà partecipare tramite kraken o chi ex wabi gate punto io la total supply di astar sarà di 70 milioni di token e il 20 per cento della initial token supply sarà usata per l'asta crowd loan 15 per cento e il 5 per cento per il bonus ovviamente se vincerà lo slot e per chi sovvenzionerà questo progetto il 10 per cento dei token astr aspettabili ad ogni partecipante verrà rilasciate immediatamente dopo che sarà possibile tradare il token mentre il restante 90 per cento verranno rilasciati al termine delle 96 settimane una cosa importante al restante 90 per cento dei nostri token che avremo come ricompensa che saranno bloccate per il 96 per le 96 settimane potranno però essere messi a rendita all'interno della piattaforma in staking e così per le 96 settimane comunque avere un piccolo guadagno per questo blocco questa schermata andiamo a vedere che in questa schermata vediamo un esempio se astra raggiunge 2,62 milioni di dot per ogni dot che si va a prestare si riceve 4 astra se raggiunge 5,25 milioni di dot per ogni dot e si riceverà due astra se raggiunge 10,5 milioni di dot per ogni dot e si va a guadagnare un astra per quanto riguarda i bonus se andiamo ad aiutare la raccolta fondi per ogni referral che sponsorizziamo per ogni conoscente amico che per essa va a depositare un dot nel contratto noi andiamo a guadagnare lo 0,1 astra in più da chi ha depositato ad esempio un dot con il nostro referral link va a ricevere l'un per cento di bonus iscrivendosi all'asta prima dell'ocean 1 si va a guadagnare un 20 per cento di bonus su quello che abbiamo versato come contributo in più il 10 per cento se stiamo stati tra i primi partecipanti al plasma lock drop o chaiden crollo and su cosa ama quindi astra sarà il principale hub nativo su polka dot che andrà a supportare ethereum tramite i contatti intelligenti delle dap per quanto riguarda la defai nft e dao e sono i tre pilastri fondamentali della finanza decentralizzata dove gli nft ovviamente si sono inseriti per ultimi come vediamo dall'immagine sottostante astar servirà per poter collegare le block chain di layer 1 direttamente con la block chain di polka dot supporterà come abbiamo visto le dap per quanto riguarda lo staking le tiri un virtual machine e layer 2 con il supporto al roll ups come invece abbiamo un'anteprima della della dashboard della piattaforma dove abbiamo il balance le dap staking lo staking dove possiamo andare a controllare tutti i nostri fondi depositati e ovviamente sulla voce history lo storico delle nostre transazioni l'astra token verrà utilizzato per il pagamento delle fee come token governance all'interno della dao come ricompensa per lo staking dei token holder inoltre per operare su layer 2 gli sviluppatori andranno a depositare il token astra per poter scrivere i loro codici all'interno di questo ecosistema qua abbiamo le testate che parlano di questo progetto c'è in news co in telegraph orb tech crunch e the block più in fondo ancora abbiamo i sostenitori ovvero la binance lab andiamo a vedere un attimo i nomi più altisonanti uo b venture o che gli ex blocci e venture fain bushi capital gumi criptos e poi tutti gli altri che vedete in sovraimpressione andando per un attimo a vedere la community telegram conta già 21.432 membri attivi andando sulla pagina ufficiale del profilo twitter vediamo che a star network è seguito da oltre 69 mila e 200 follower andando poi sulla loro pagina medium sul loro blog possiamo vedere tutte le notizie riguardanti network notizie e aggiornamenti soprattutto riguardante anche la partecipazione della sta paracene cordo che per partecipare all'asta si può utilizzare il wallet polka dot punto j s oppure con i partner convenzionati quali gli exchange supportati ricordo inoltre minimo quantitativo di dot per poter sovvenzionare il progetto è 5 dot questa che vedete in sovraimpressione dovrebbe essere la pagina dei partner che vi permette di andare a a depositare i vostri dot finanziando il progetto dovrebbe essere fatto in questo modo molto semplice e intuitivo che cosa sono le aste paracene a che cosa servono vi lascerò comunque il link al video che ho fatto precedentemente dove spiego che cosa sono queste aste e perché potrebbero essere una buona opportunità per noi utenti comunque vi do sempre un consiglio prima di andare a scegliere un progetto sul quale puntare sul quale andare a sovvenzionarlo con il prestito dei nostri polka dot perché alla fine di un prestito si tratta noi andiamo a prestare i nostri dot al progetto sì che possa vincere l'asta paracena e i nostri dot verranno vincolati per tutta la durata del contratto che ha stipulato il progetto che ha vinto che andiamo a sovvenzionare per l'affitto dello spazio sulla cena di polka dot ovviamente questi dot che noi andiamo a prestare non verranno spesi alla fine del blocco ci verranno restituiti bene siamo arrivati anche per oggi alla fine del nostro appuntamento come sempre spero che il video vi sia piaciuto l'abbiate trovato utile mi raccomando lasciatemi un like per supportarmi con l'algoritmo di youtube iscrivetevi al canale e iscrivetevi in oltre anche la nostra community telegram per ricevere tutta l'assistenza di cui avete bisogno per fare due chiacchiere insieme a noi noi ci vediamo domani ciao a tutti